Una buona domenica alla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A1 tra Calenzano e il BV A1 variante di valico Baccheraia verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. In direzione a Roma si viaggia rallentati per traffico tra Firenze Sud e incise a Reggello. In A12 code per traffico intenso a Rosignano Barriera in direzione Rosignano. Sull'accordo Siena-Firenze possibili disagi in entrambe le direzioni per scambi di carreggiata tra San Casciano e l'allaccio con l'A1 Firenze in Pluneta. Sono in programma per il 7 agosto cantieri e possibili disagi nelle seguenti strade fiorentine. Via del Paradiso, Via di Bello Sguardo, Via Baccio da Montelupo, Via della Scala, Via dell'Agnolo e Borgo San Frediano. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!